Vincenzo Selvalli si conferma alla guida della città di Cava dei Tirreni anche per i prossimi 5 anni. Il primo cittadino uscente quindi riesce ad attestarsi al di sopra del 50% delle preferenze per l'esaltezza al 51,52% ed ottiene così il bis. Il risultato clamoroso è la debacle del centrodestra e del suo candidato a sindaco Marcello Murolo, superato addirittura dall'ex guardiano del convento di San Francesco e Sant'Antonio Luigi Petrone. Sin dalle prime sezioni scrutinate, Vincenzo Selvalli, appoggiato da una vera e propria corazzata formata da sette liste, era abbondantemente al di sopra del 50% dei voti. Con il passare delle ore la percentuale è leggermente calata, attestandosi intorno al 52%. Poco dopo le 18, non appena è arrivata la matematica certezza della vittoria, nel comitato elettorale di Vincenzo Selvalli sono scoppiati i festeggiamenti. Il primo cittadino, che sin dalla mattinata atteso nel suo quartier generale di Piazza Vittorio Emanuele III l'esito dello scrutinio, ha successivamente raggiunto, tra il tripudio generale dei suoi supporters, il Palazzo di Città. Già da oggi, quindi, può riprendere il suo lavoro per il prossimo quinquennio. Da avere propria sorpresa di questa tornata elettorale è stata l'affermazione di Luigi Petrone. Dopo aver deciso di accantonare il messaio francescano, Fragigino, così come viene chiamato ancora oggi in città, ha deciso di scendere in politica, tentando di conquistare la fascia dricolore della città metelliana alla guida della lista civica La Fratellanza. Petrone si è piazzato al secondo posto con il 19,4%. Grande amarezza, invece, in casa centrodestra. La pesante sconfitta di Marcello Murolo, candidato sindaco dell'intera coalizione, sicuramente lascerà qualche strascico. Il risultato del 17,3% infatti è stato ben al di sotto delle aspettative della vigilia e quindi il centrodestra sarà chiamato ad una seria riflessione sugli errori commessi. Delusione anche per Enrico Bastolla, che si ferma al 3,2%, e per Umberto Ferrigno, che conquista il 2,1%. Buoni risultati per il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Benevento, con il 3,4%, e per il giovane candidato di Potere al Popolo, Davide Trezza, che si attesta al 2,9%. Con l'affermazione di Vincenzo Servalle al primo turno, Cava dei Tirreni decide di puntare sulla continuità amministrativa. Dopo l'entrata in vigore agli inizio degli anni 90 della riforma che prevede l'elezione diretta del sindaco, è la seconda volta che il primo cittadino uscente ottiene la riconferma per il secondo mandato. Era successo soltanto a Raffaele Fiorillo, sindaco di Cava dei Tirreni, dal 93 al 2001. Negli ultimi vent'anni, invece, a falla da padrona, è stata l'alternanza e stagioni politiche che si sono concluse anticipatamente, come avvenuto nel caso di Affredo Messina e Luigi Gravagnolo. Sarà Servalli-Biss a Cava dei Tirreni. Il primo cittadino uscente, infatti, si è confermato alla guida della città metelliana anche per i prossimi cinque anni, superando il 50% delle preferenze degli elettori cavesi. A far scalpore è il risultato deludente del centrodestra e del suo candidato a sindaco Marcello Murolo, superato nelle preferenze dall'ex guardiano del convento di San Francesco e Sant'Antonio Luigi Petrone. I dati relativi alle prime sezioni scrutinate, giunti nel mattino di ieri, davano già Servalli abbondantemente al di sopra del 50% dei voti. La percentuale poi è leggermente calata, attestandosi intorno al 52% delle preferenze. L'aritmetica certezza della vittoria è arrivata poco dopo le 18, dando il via ai festeggiamenti nel comitato elettorale di Vincenzo Servalli, che ha successivamente raggiunto il palazzo di città accompagnato dai suoi sostenitori. Una bella soddisfazione, il desiderio di ricominciare subito a lavorare. Dobbiamo far ripartire le scuole, i ragazzi devono tornare a scuola e quindi la prima preoccupazione che abbiamo da affrontare subito è questa. Secondo luogo un appello a tutti i competitori, a tutti i cavesi. Il difficile momento che stiamo attraversando, le settimane difficili che saranno tra avanti a noi ci chiedono unità. Tutti i cavesi insieme dobbiamo combattere per superare questo momento difficile e quindi adesso via le divisioni e forza cava. La principale sorpresa uscita dalle urne sono stati i consensi riscossi da Luigi Petrone, che dopo l'esperienza francescana ha deciso di scendere in politica partecipando alla corsa per il palazzo di città, alla guida della lista civica La Fratellanza. Petrone che ha sferato il 20% delle preferenze, si è piazzato al secondo posto. Devo dire la vita, il 20% con 23 persone, credo che è un buon risultato. Ti presento una sola lista, organizzata la campagna elettorale il primo settembre, quindi possiamo dire 18 giorni di campagna elettorale, prima non c'era proprio il programma, non si fa tutta la parte burocratica, tutto quello che c'era da fare, quindi possiamo dire togliendo le domeniche e le altre cose, 15 giorni di campagna elettorale, avere il 20% è una soddisfazione. Il secondo significa anche continuare a stare vicino alla città, è un obbligo, certamente stare a palazzo di città significa anche poter aiutare, poter anche controllare, un consigliere e due consiglieri possono anche accedere con facilità agli atti, controllare se la città va per la strada migliore, se qualche cosa non va, se qualche cosa possiamo aggiungere, è un fatto molto bello. Grande delusione invece per il centrodestra. Il risultato di Marcello Murolo, candidato sindaco dell'intera coalizione, è stato infatti ben al di sotto delle attese. È evidente che il messaggio che ho cercato di trasmettere ai cavesi non è passato, ha affermato Murolo. Rispetto il voto dei miei concittadini, mi auguro che abbiano saputo vedere meglio di me. Chiudo questa fase elettorale senza rimpianti. Ho lottato con determinazione per la mia città. Ho conosciuto l'entusiasmo di tantissime persone che mi hanno dimostrato la loro stima e il loro affetto. Sono stato affiancato da candidati che ci hanno messo il tempo, l'anime e la passione. Continueremo, ha concluso Murolo, un'opposizione dura e determinata, sempre per il bene della città. Risultati derudenti per Enrico Bastolo e Umberto Ferrigno. Nessun seggio in consiglio comunale, anche per potere al popolo del candidato sindaco Davide Trezza e per il Movimento 5 Stelle del candidato sindaco Giuseppe Benevento. Con la netta vittoria al primo turno per la compagine che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Vincenzo Servalli, scatta anche il premio di maggioranza. In consiglio comunale, quindi, su 24 seggi, 15 spetteranno alla coalizione uscita vincitrice dalle urne. Nello specifico, ecco come sarà composto il nuovo parlamentino cittadino. Per quanto riguarda la maggioranza, al Partito Democratico spettano sei seggi che vanno Annunzio Senatore, che è risultato il candidato più votato con ben 1545 preferenze, Luca Narbone, Annette Altobello, Lorena Iuliano, Anna Padovano Sorrentino e Giuliano Galdo. Al momento restano fuori Eugenio Canora, Anna Laura Ferrara, Franco Manzo e Paola Landi. Cinque seggi, invece, spettano alla lista insieme per Servalli sindaco e quindi a Danilo Leo, Fernando Mandara, Federico De Filippis, Adolfo Salsano e Mena Vagliano. Primo dei non eletti è Germano Baldi, seguito da Marco Senatore. Unione Popolare, invece, conquista due seggi. Entrano Antonio Barbuti e Giovanni Del Vecchio. Un seggio ciascuno per il Partito Socialista Italiano e Cava ci appartiene, che portano in Consiglio Comunale, rispettivamente Gaetano Gambardella e Salvatore Balestrino. Fuori per il momento gli ex assessori Antonella Garofalo e Armando Lamberti. Non hanno superato il quorum, invece, le liste a Miamo Cava e Cava Avanti. La minoranza, invece, dovrà dividersi i restanti seggi. Oltre al candidato sindaco Luigi Petrone, alla lista La Fratellanza aspettano due consiglieri comunali e, quindi, entrano all'interno del parlamentino cittadino Pasquale Salsano e Bruno Delia. Invece, alla coalizione di centrodestra, oltre al candidato sindaco Marcello Murolo, spettano ulteriori cinque seggi. Di questi, due vanno alla civica Siamo Cavesi, che sarà rappresentata da Raffaele Giordano e Vincenzo Passa, e due a Fratelli d'Italia, che porta in Consiglio Comunale il giovane Italo Cirielli e conferma Clelia Ferrara. L'ultimo seggio disponibile, invece, se lo aggiudica Pasquale Senatore di Forza Italia. Niente seggi per Lega e Udc. Restano esclusi dal parlamentino cittadino anche Enrico Bastolla, Umberto Ferrigno, Giuseppe Benevento e Davide Trezza. Conclusa la tornata elettorale, anche in costiera amalfitana, dove tre sono stati i comuni chiamati alle urne nei giorni 20 e 21 settembre per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio Comunale. Maiori, Amalfi e Positano. La sfida 2, che ha visto contrapposte le fazioni di Giuseppe Guida e Gabriella Guida, si è conclusa con la vittoria del leader della lista, l'Alba della Libertà, e dunque Giuseppe Guida si è aggiudicato la carica di primo cittadino di Positano, con una preferenza di circa un centinaio di voti in più rispetto alla sfidante supportata dalla lista, Super Positano. A Maiori, invece, dalle ore 17 di ieri sono partiti i festeggiamenti per l'insediamento del nuovo parlamentino cittadino, capitanato per la seconda volta consecutiva, da Antonio Capone. Responso arrivato matematicamente già dall'ora di pranzo. Il sindaco uscente è stato riconfermato con la lista con Antonio Capone sindaco, battendo gli altri due candidati, Elvira D'Amato, funzionario della Polizia di Stato e Inquiescenza, sostenuta dalla lista Maiori di Nuovo, e l'ex sindaco di Maiori, Salvatore della Pace, supportato dalla lista Idea Comune. Infine ad Amalfi, le elezioni amministrative hanno preso una piega decisamente eclatante. Un testa a testa tra il sindaco uscente Daniele Milano e l'avversario Alfonso Del Pizzo, conclusosi con la vittoria di Milano, per soli due voti di scarto. 1708 preferenze per liberi contro i 1706 di Amalfi rinasce. Tensione ed attesa hanno caratterizzato questa corsa elettorale per contendersi Palazzo San Benedetto. Dopo vari riconteggi delle schede elettorali, Daniele Milano è stato decretato sindaco di Amalfi per la seconda volta. 69,48% di consensi, pari a 1.789.017 voti. Con questi dati definitivi di 5.827 sezioni, il governatore della campagna Vincenzo De Luca ha vinto le elezioni regionali, mentre Stefano Caldoro del centrodestra ha raggiunto il 18,06% dei consensi e Valeria Ciarambino del Movimento 5 Stelle, il 9,93%. Un'elezione che porta in seno all'organo rappresentativo deliberativo della regione campania 32 consiglieri di maggioranza, numero massimo consentito dalla legge elettorale campana ai quali si aggiunge il presidente De Luca. Al centrodestra, oltre al seggio che spetta al candidato Stefano Caldoro, vanno invece 10 seggi. 73,17% di consensi nella sola provincia di Salerno per il presidente De Luca, un risultato elettorale che porterà in consiglio regionale 6 consiglieri del territorio. Riconfermati Franco Picarone del Partito Democratico, già presidente della Commissione Bilancio di Palazzo Santa Lucia, il più votato con 21.180 preferenze. Luca Cascone della lista De Luca Presidente, già presidente della Commissione Trasporti della regione, che ha totalizzato invece 16.180 voti. Ampi consensi, con 16.569 voti nella lista Campania Libera per l'assessore alle politiche sociali del comune di Salerno Nino Savastano, per la prima volta in consiglio regionale. Nuovo ingresso in consiglio anche per il giovane Andrea Volpe, candidato con il Partito Socialista, figlio del sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe, che ha raccolto 9.859 preferenze. Riconferma in consiglio regionale per Corrado Matera, avvocato di Teggiano, assessore al turismo uscente, eletto con 12.459 preferenze nella lista Affare Democratico Popolari. Entra in consiglio regionale anche Tommaso Pellegrino, già sindaco di Sassano e presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Dalburni, con 12.450 voti nella lista Italia Alea Viva. All'opposizione spettano invece tre seggi, con 9.530 voti entra in consiglio regionale per il centrodestra, rappresentato da Stefano Caldoro, Nunzio Carpentieri, già sindaco di Sant'Egidio del Monti Albino per Fratelli d'Italia. Riconferma nella minoranza tra le fila del Movimento 5 Stelle per il capaccese Michele Cammarano, con 3.974 voti, che come nel 2015 ha sostenuto la candidata alla presidenza Valeria Ciarambino. Prima volta in consiglio invece per la Lega, che vede il cilentano Attilio Pierro, ex assessore provinciale ai lavori pubblici della provincia di Salerno, raccogliere 4.515 voti. Resta fuori invece questa volta dal consiglio regionale il partito di Forza Italia, che ha raggiunto solo il 5,40% dei consensi. Si è spento all'età di 97 anni il professore Salvatore Fasano, un pezzo di storia di Cava dei Tirreni, il cui nome è legato in particolare al sacrario militare situato nel civico cimitero di cui è stato fondatore e presidente. Salvatore Fasano è stato docente, consigliere comunale, assessore all'istruzione del comune di Cava dei Tirreni, autore del libro Albo d'Oro dei caduti cavesi 1895-1945, ex presidente della commissione toponomastica cittadina e ha ricevuto le onorificenze di commendatore dell'ordine al merito della Repubblica e di grande ufficiale al merito della Repubblica su iniziativa del presidente della Repubblica Carlo Azzeglio Ciampi. È a lui che si deve la costruzione del sacrario militare di Cava dei Tirreni, realizzato nel 1981 con la sistemazione di ben 106 urne di caduti in guerra durante la prima guerra mondiale, la guerra civile spagnola, la guerra italo-etiopica e urne della seconda guerra mondiale, provenienti da vari sacrari militari in Italia e all'estero. L'ultimo saluto al professore Fasano si svolgerà oggi, alle ore 15, presso il Duomo di Cava dei Tirreni. La redazione, gli editori e tutto lo staff di RTC Quarta Rete si associa al dolore spazio dell'illustre con Cittadino. Cavesa è molto attiva sul mercato. Nella giornata di lunedì ha preso l'attaccante Riccardo Forte e ha reingaggiato il centrocampista Andrea Migliorini. Poi ieri sono stati ufficializzati anche i fantasisti Enrico Ovischak e Giuseppe Montaperto, uno dall'Udinese e l'altro dall'Empoli, ma grande scalpore è stato destato dal comunicato stampa diramato dal presidente Aquilotto Massimiliano Santoriello, il quale ha minacciato di andarsene. Comunicato diramato esattamente ieri sera alle 21. Prima di esporsi, Santoriello ha atteso la vittoria praticamente definitiva di Vincenzo Servalli, che è stato rieletto sindaco di Cava dei Tirreni al primo turno. Mancavano poche sezioni da scrutinare. Eppur esprimendo congratulazioni per la rielezione del primo cittadino, il patron ha minacciato le dimissioni da presidente e da amministratore unico. Non c'è disimpegno per questa stagione, ma c'è voglia di far bene sul piano sportivo, lo testimoniano i movimenti di mercato effettuati, ma se la situazione non dovesse cambiare, Santoriello non escluderebbe in caso estremo la non iscrizione del club al campionato 2021-2022. Il motivo, lo dichiara egli stesso nella nota pubblicata su Facebook, è da ricercare nella condizione di manutenzione dello stadio Simonetta Lamberti, giudicata da lui non soddisfacente e nel fatto che alcuni suoi appelli precedenti rivolti all'amministrazione comunale via PEC sarebbero rimasti inascoltati. Mancano ormai pochi giorni al debutto interno in Serie C con la Vibonese. Santoriello si è così tirato addosso il malcontento della tifoseria e questo lo ha portato stamattina presto a effettuare ancora un altro intervento con il crisma dell'ufficialità. Stavolta un videomessaggio nel quale spiegava per filo e per segno tutto ciò che ancora non sarebbe stato sistemato a dovere. Dal terreno di gioco del Lamberti non curato, alla insufficiente manutenzione degli spogliatoi, alla sala stampa in condizioni fatiscenti, alla copertura di una panchina mancante e così via. E inoltre c'è una recente determina che attribuisce alla cavese l'onere di apportare alcuni interventi sullo stadio e la gente è tornata a sostenere il patron. L'obiettivo di Santoriello è evidentemente quello di poter essere convocato da Servalli a stretto giro per fare in modo che si possa porre rimedio e sono interventi che si possono fare. Al momento la partita cavese-vibonese è programmata regolarmente per sabato. Un'altra nota è relativa al campo di pregiato, i cui spogliatoi non sarebbero ancora nelle migliori condizioni strutturali. Io mi reputo di essere una persona seria, per bene, onesta, ma sicuramente con dei difetti. Tra le tante cose io non ho alcun interesse né economico né politico sulla e nella città di Capite di Reni. Ho costruito la mia vita sempre in autonomia, ho sempre lavorato duramente da quando ero bambino, ancora tutt'oggi faccio dei sacrifici che forse neanche da giovane faceva. E quindi ho evitato, sono stato in silenzio tutti questi mesi, tutti questi giorni, proprio per evitare qualsiasi, diciamo, utilizzo delle mie dichiarazioni a fine politici. Se noi non siamo graditi, io soprattutto non sono gradito, tranquillamente mi faccio da parte, ho detto porto gli impegni fino a fine anni, farò il massimo per la cavese quanto più in alto possibile e poi tranquillamente mi farò da parte se il sindaco mi presenterà in un imprenditore molto più importante, molto più gradito di me, soprattutto che solvibile come noi, che possa portare in alto la cavese. Per il momento il sindaco non replica, ma si riserva di ascoltare attentamente quanto dichiarato dal patron, prima di prendere una posizione. Dunque non è a rischio la partita tra cavese e vibonese, ma certo le difficoltà non mancano. C'è tuttavia anche un altro problema legato allo sciopero proclamato dall'AIC, il sindacato dei calciatori, che contesta le limitazioni nella formazione delle liste in Serie C, quindi la prima giornata rischierebbe di saltare, ma la Lega Pro sta tenendo duro insistendo a dichiarare che il primo turno si giocherà regolarmente. Ma con riferimento alla situazione di Cava, chissà che un rinvio non diventi una cosa a favore del comune per porre rimedio nel volgere di una decina di giorni a tutti i problemi strutturali. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.